Ieri le dimissioni firmate da 13 consiglieri comunali su 25, la metà più uno, davanti ad un notaio a Pescara. Stavani alle 9 la consegna delle firme alla segreteria comunale. Si consuma così nel giro di 24 ore l'epilogo dell'amministrazione comunale di Montesilvano, targata a Tiglio di Mattia. Un mandato, durato dunque meno di due anni, e che non è riuscito nel compito di dare rinnovamento e impulso all'attività amministrativa di una città che aveva scelto, nella primavera del 2012, il profilo giovane e rampante dello stesso di Mattia, che dopo tanta gavetta era sceso in campo in quota Italia dei Valori, diventando prima consigliere provinciale di opposizione, poi successore di Lillo Cordoma a Palazzo di Città. A dare le spallate definitiva di Mattia sono stati due ex fedelissimi, due eletti nella lista civica del sindaco Montesilvano Benecomune. Un anno fa l'ex assessore Antonio Aliano usciva dalla giunta per diventare uno dei più fieri oppositori della giunta stessa. Il colpo di grazia ieri lo ha inflitto il presidente del Consiglio Comunale, Fabio Petricca, su alla tredicesima firma. Cosa si è incrinato? Lo spiega lo stesso Aliano. Al di là di ogni colore politico e di ogni logica politica, perché ricordiamo che siamo in un ente locale, e quindi i progetti, i programmi sono sempre i medesimi, a prescindere dalla politica economica che regna a livello nazionale, avevamo un unico obiettivo che era il cambiamento. Ci siamo avveduti da subito che Di Mattia non poteva essere il profeta del cambiamento, perché andava a cavalcare una logica politica di vecchia tradizione che proprio non riguardava né me, né l'avvocato Fabio Petricca, consigliere e quindi mio compagno di lista civica, ricordo. Canta vittoria Manola Musa, leader dell'opposizione e candidata sindaco sconfitta da Di Mattia al ballottaggio. La vicenda a tassa di soggiorno è solo la punta dell'iceberg. Noi ci siamo battuti sin dall'inizio perché sapevamo prima di tutto che un sindaco che non era di Montesilvano non poteva conoscerne i veri problemi. Siamo arrivati all'epilogo perché fortunatamente il presidente del Consiglio Fabio Petricca si è reso conto dello scempio che stava succedendo in città e tutta la città soprattutto era cosciente di questo e si sentiva nella piazza il bisogno di tornare alle urne. A Montesilvano è già tempo di pensare al ritorno alle urne del 25 maggio. Centrodestra pronto alle primarie. Il cittadino in primo piano dovrà scegliere chi sarà il candidato sindaco con delle primarie regolarissime quindi voce al cittadino, assolutamente. Penso che dopo le esperienze precedenti sia giusto fare le primarie perché così poi si andrà tutti uniti verso la vittoria che mi appare scontata qui a Montesilvano. Manola Musa che è stato candidato sindaco nella precedente tornata elettorale sarà presente alle primarie del centrodestra. Ma non lo so probabilmente sì probabilmente no la mia vittoria diciamo che l'ho ottenuta oggi perché ho dimostrato che non era lui che doveva fare il sindaco non era Tiglio Di Mattia il vero sindaco di Montesilvano.